Benvenuti ragazzi in questo video dove catturerò Zapdos Cominciamo Credo che sia da questa parte, giustamente io l'avevo visto qui Guarda, speriamo, guardate, speriamo Sì, ce l'abbiamo fatta ragazzi, l'abbiamo trovata il posto Bene, ora dovremmo usare il ferser Io non ho un po' che molti posti Aspettate, ora stoppo e avrò da Avrò un pokemon di tipo acqua Bene, ho il pokemon tipo acqua 3 di 8 Un golden di livello 15, ma che me ne posso fare? Inquadro meglio, ecco perfetto Ora lo smeno Ora lo faccio fritto Chissà se è un buon sapore Intanto facciamo fastisfera L'ha distrutto L'ha distrutto Ehm, mi manca serviva Ok, grazie Grazie Grazie, thank you very much Ancora l'ha distrutto Sto impazzendo Ok 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 Bravo stiro Ecco fatto, ciao Ci vediamo Brava Ciao Ciao Ci vediamo a quel S Sì, ma è un po' che si può fare? No, non è un po' che si può fare? No, non è un po' che si può fare? io in genere ho schifo di pokemon perché li ho depositati tutti perché ha trovato l'adies ma cercherò di lo stesso di catturarlo bene proviamo con la pokeball anche perché è rossa come lui è rossa e bianca forza ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto un po' il torb d'accordo no non ci voglio dare nessun soprannome eccolo lì zappdos se la potete catturare ovviamente dovrete finire e dovete sconfiggire la vega se volete se volete catturare quando volete o prima o dopo prima o dopo prima o dopo montress o articuno non ho fatto video non ho fatto video in cui ho catturato molto l'altra parte però cercherò di fare video anche quando catturerò di alga e palchia vabbè vabbè per ora non ci interessa via con la cattura ecco qua zappdos cattura 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 l'abbiamo cattura cattura ole 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 cattura 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 e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti iscrivetevi e lasciate un bel mi piace cattura